Un bilancio impegnativo, significativo, perché come è stato detto in chiusura forse è una delle edizioni di faro più centrate che vengono in un momento molto particolare e siamo anche molto probabilmente su un punto di possibile inversione della curva dei prezzi, quindi grande attenzione, grande metodo e grande osservazione e monitoraggio del mercato perché da qui al prossimo faro che sarà il 23-24 giugno a Pesaro molto probabilmente potranno esserci delle nuove variabili anche irrompenti sul mercato. Grazie